Le squadre di Piero Braglia sono squadre sempre rognose, ostiche, organizzate, su un campo difficile, oggi era stata indetta anche la giornata giallo-blu, quindi sicuramente dovevamo affrontarla con questo piglio, questo spirito, questa personalità, questa intensità, partire subito forte è quello che avevo chiesto alla squadra per andare subito a non far prendere quanto meno entusiasmo a una squadra che sul proprio campo, se fai prendere giustamente coraggio, possono galvanizzarsi ancora, e andare a sfruttare quelle rapidità, quelle velocità che sono insite nelle caratteristiche di questi giocatori, quindi la squadra è stata brava, attenta, concentrata, determinata, ha sbloccato la gara, ha continuato a giocare, ad aggredire con la convinzione di voler andare a raddoppiare, a chiudere la partita e poi dopo, insomma, ripeto, soddisfatto in generale per la prestazione, l'approccio, ma rimaniamo con i piedi per terra perché ogni partita qui è da giocarla sempre a 200 all'ora, con mentalità giusta e con un percorso sempre di crescita che stiamo ricercando in virtù anche del fatto che purtroppo quest'anno dal mio arrivo sono 4 mesi e mezzo, abbiamo sempre avuto delle problematiche, 6-7 assenti tutte le partite, quindi dobbiamo necessariamente ogni gara costruire una prestazione importante con la disponibilità di questi ragazzi che veramente stanno dando tutto e devono continuare a farlo rimanendo, come ho detto prima, con i piedi ben saldi in terra. Io rivengo tutta la squadra, anche Vasquez stesso, ha fatto una grande partita e quando mi dicevano a Palermo perché il mister ha rimesso Vasquez in squadra oggi, beh, penso che in rosa, penso che oggi qualche soddisfazione me la posso togliere anche io e sono contento per il ragazzo, per la società perché penso, insomma, che oggi questo ragazzo abbia fatto intravedere delle caratteristiche importanti, delle qualità interessanti, quindi su questo lavoriamo per migliorare i giocatori e per far sì che riescono ad essere funzionali a quello che può essere un progetto tattico che stiamo portando avanti, ma sono stati bravi tutti, i centrocampisti a sapersi buttare dentro, ad andare a creare situazioni di superiorità numerica nella zona d'attacco, di superiorità numerica sugli esterni, quindi quello che ricercavamo l'abbiamo fatto nella maniera giusta, ora però giriamo pagina e pensiamo già alla prossima partita perché ci aspetta uno sconto diretto contro il Brescia difficile. Sono contento, era più di due anni che non segnavo, poi una doppietta, una partita così importante e sono felicissimo. A livello morale, di gruppo, conta tantissimo, però sappiamo che da quella fine ci sono ancora tantissimi punti e non valgo niente questi sette punti di vantaggio, dobbiamo cercare di continuare così e cercare di fare un filotto di partite con più punti possibili. È importante allungare soprattutto sulla terza e speriamo di fare tanti punti nelle prossime partite. Abbiamo cercato di tenere la palla perché comunque abbiamo anche cercato di mantenere un po' le energie, essendo oggi anche lunedì e sabato abbiamo una partita importante, sappiamo che abbiamo giocatori per fare un certo gioco, quindi abbiamo cercato di fare quello, poi abbiamo cercato di affondare qualche volta, non siamo riusciti a fare il quarto gol ma eravamo contenti di tenere la palla e di fare un bel gioco.